Stavamo pensando come poterli occupare, dandogli la possibilità di fare esperienze di un lavoro e allora abbiamo pensato a questa formula, siccome noi ogni anno raccogliamo le olive, allora cercare anche di fargli capire che in Italia ci sono anche degli orari, anche per cercare di trasmettere dei valori rispetto al lavoro. E quindi con questa occasione delle olive abbiamo pensato di proporgli chi avesse voglia di imparare a fare un lavoro, che era tutto l'aspetto non solo della raccolta delle olive, ma anche dello spollinare gli alberi, del pulire, quindi il giardinaggio, perché appunto c'era stata offerta un'ulteriore parte dell'oliveto di alcuni proprietari più vicini al seminario e quindi diciamo incomodato d'uso abbiamo con loro fatto la pulizia tutto del bosco, del roveto, delle erbacce e poi fino ad arrivare agli olivi, alla puttatura e poi alla raccolta e quindi è stata un'esperienza con loro da una parte educativa perché appunto fa di fare esperienze di cosa significa, per esempio arrivare puntuale al lavoro, prendersi un impegno, avevamo fatto una scheda dove insegnavamo quando arrivavano o quando andavano via e alla fine di questo lavoro, che altro era un progetto perché è durato un tempo, non è che fosse un lavoro continuo, alla fine di questo lavoro diciamo abbiamo poi raccolto queste olive, le abbiamo spremute e con loro poi abbiamo anche pensato di fare appunto delle etichette dove era stato scritto il nome della Casa del Mandorlo, produzione appunto della Casa del Mandorlo per appunto per accogliere diciamo un piccolo fondo per loro, per l'espeso loro e quello che è venuto fuori poi è stato diviso tra chi era venuto a lavorare in base anche alle ore che avevano fatte, quindi per loro è stata una prima esperienza di cosa significa lavorare un totto d'ore dove appunto hanno potuto anche verificare che magari alcuni hanno iniziato un tanto entusiasmo, poi magari alcuni giorni non venivano oppure venivano, stavano fermi alcune ore e allora fagli anche vedere che nella realtà e nel lavoro questo porta anche delle conseguenze, ecco era volergli fare e trasmettere questo perché comunque anche noi abbiamo verificato che un po' nella loro cultura diciamo così, questo non era poi così scontato, hanno tutto un ritmo un po' personale, ecco no? E' stato anche un cammino proprio di conversione, mi sembra di verificare a distanza anche di un tempo abbastanza sostanzioso che è ormai un anno e tre mesi, che in realtà la chiesa accogliente sono loro, perché ho visto come giorno dopo giorno c'è l'incontro con queste persone che sì è vero che sono in difficoltà, che sono questi famosi poveri del Vangelo in realtà non solo sono poveri, ma sono proprio quella chiesa che io mi sono sentito accolto da loro perché ogni giorno dove ho cercato di fare qualcosa a loro e poi magari ti rendi anche conto di non essere adeguato perché comunque le difficoltà non sono state poche, in realtà ho proprio fatto l'esperienza di una chiesa che ogni volta mi ha raccolto tutti i giorni senza pretendere di essere diverso da quel che sono e lì ho fatto l'esperienza del Signore, perché il Signore è così, ecco, ti chiede di cambiare perché però partendo da quel che sei, senza pretese, ho sempre visto in questi ragazzi un'accoglienza e un sorriso che ti riconfermava di essere veramente amato per quel che sei non per quel che alla fine gli davamo, perché tante volte abbiamo proprio sperimentato che altre strutture forse avrebbero potuto dargli di più, meglio, essere più efficienti e invece per noi è stata una riscoperta, non essendo appunto una struttura organizzata ma essendo un seminario è stato un po' mettersi in ascolto delle loro esigenze e tante volte trovarsi anche davanti alle loro esigenze che sembravano più grosse e allora è stato proprio un cammino vedere che al di là di quello che avevano bisogno per me è stato un rendermi conto appunto che loro sono questa chiesa accogliente che ti chiede semplicemente alla fine di camminarci accanto, di lasciare che in qualche modo ti incontri